Un restauro integrale, quello realizzato dalla soprintendenza speciale di Roma alla Cappella Cornaro con l'estasi di Santa Teresa d'Avila, di Gian Lorenzo Bernini, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma, preceduto da un lungo e approfondito studio preliminare che ha rivelato episodi inediti della sua storia. Un restauro che ha ridato, con un intervento totale sull'opera, luce e vita a un capolavoro del barocco e che ha permesso anche di indagare il metodo di lavoro che Bernini ha utilizzato per realizzare uno dei suoi monumenti più emblematici. Grazie al restauro, alla pulitura e al controllo di ogni superficie, un'esplosione di colori terei ha ridato vita all'Empireo e alle Angeli intorno alla colomba dello Spirito Santo, alle dorature originali, alle sculture, ai marmi. Il direttore scientifico del progetto, Mariella Nuzzo. È stato un intervento di revisione conservativa dell'intera Cappella. L'intervento è stato determinato dalla presenza di alcune criticità particolari in alcune parti della Cappella, ma è stata l'occasione per fare una revisione completa della Cappella. C'erano da risolvere alcuni problemi legati in particolare alla situazione del tabernacolo, che è la parte che Bernini costruisce in aggiunta, rompendo un pochino lo schema, di una cappella di cui lui si trova a organizzare uno spazio già dato e che attraverso la costruzione di una camera di luce, dota di un sistema di illuminazione proprio e crea un amplio spazio per ospitare il tabernacolo che costudisce il celebre gruppo scultorio. Capolavoro assoluto del barocco, interamente progettato da Bernini, che lo ha realizzato insieme a un ben collaudato gruppo di collaboratori, riuscendo a raggiungere uno dei suoi risultati creativi più alti, la Cappella Cornaro esibisce una simbologia complessa e una natura composita di cui l'estasi di Santa Teresa è il fulcro. Con la revisione conservativa dell'intera Cappella si vuole favorire la fruizione, la lettura, la comprensione di quest'opera nella sua organicità. Giuseppe Mantella è il restauratore. È stato interessante durante l'operazione anche di revisione del restauro del gruppo scultorio vedere come bisognava affrontare comunque l'operazione di pulitura in maniera graduale e soprattutto attentissima, perché durante le ore del giorno, cambiando la luce, aveva una percezione diversa dell'opera a seconda dell'ora della giornata e quindi dell'illuminazione voluta da Bernini.